Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Lorenzo e oggi vi mostrerò finalmente il carico complessivo 2022-2023 di Botti di Capodanno. Sono emozionato. Buona visione, vi lascio il video. E oggi finalmente riaprirò questo pack. Aspetta. Oh ragazzi, oggi ho cominciato questa ossessione. Perché devo cantare sempre queste canzoncine pazze? Vabbè, innanzitutto cominciamo a metterle tutte. Aspetta che si stanno spaccando tutte le cose, ok. Perfetto, prima che ti rompo perché già sti... Bene ragazzi, guardate che sono belli tutti qua, messi in una grandissima e bella esposizione. Guardate, ma non sembrano più belli messi così? Secondo me, sì. Partiamo dalle cose più piccole che sarebbero i pop pop, che sono due pacchi e ognuno è 50 pezzi. Quindi tutti e due insieme sono 100 pop pop, che di conseguenza chiamano cipolline. Subitissimo dopo abbiamo queste meravigliose stelline. Ho delle candele magiche grandi, che di queste ne sono solo 5. E poi questi qua sono pacchi nuovi, mi sembra. Sì, sono pacchi nuovi, che li ho comprati poco fa. Ora guardate che belle, sembrano messe in esposizione le nostre fantastiche. I belle che sono l'ultimo articolo, che non sono fontane. E sono bellissime. Ormai queste qua le conoscete in tutti i carichi ci sono. Ok, ora passiamo alle fontane più piccole, che sono le Fontane Glitter Dream. Che sono delle fontane argentate. Aspetta, vi voglio raccontare una cosa. Una volta io me ne ero presa 24 di queste, il pacco intero, quando poi dopo ho scoperto che si mandavano 1 a 1. Questi non sono ancora si accendono perché ce le dà una vita, che sono i connetti piccoli, i mini connetti oseri dire, che sono della Faisalz, non solo della Borgonovo. Poi qua abbiamo il connetto della Borgonovo, che pure questo ho comprato poco fa, e ne ho due, infatti qua ce n'è pure un altro. Le abbiamo messi così. Ok ragazzi, poi abbiamo le Fontane Butterfly Verdi e Gialle. Queste qua già le ho da parecchi anni, infatti ce ne sono solo queste due, perché questa non le ho trovate purtroppo. Poi abbiamo ben quattro fontane sole, che queste qua, se devo dire la verità, è la prima volta che le piglio, infatti poi vorrei vedere pure come sono. E sono queste qua. Dall'apparenza mi sembrano bellissime comunque, sono di Piro Tecnica Castellana, ho letto. Questi invece sono le Jasmine, e ne ho ben tre, qua c'è pure la miccia che fuoriesce, affetto. Pure qua, c'è in tutta la miccia che fuoriesce, e sono molto belle, della Borgonovo, ovviamente pure queste. Le riposiamo al suo posto. Poi abbiamo queste, le Sirio, che forse, non ve lo ricordo se ve lo ricordate, ma in un video complessivo di carichi già c'erano pure le Sirio. Se ve lo siete persi andatela a vedere, ma vedeteli tutti i video di carichi che c'ho, perché potrete trovare anche queste. Queste qua, pensate che là veramente è creata un'ape. Infatti si chiamano le Ape Regino, che ormai per questo canale sono delle fontane molto famose, ecco, se regino, sembra della Borgonovo. Poi questo pacco, non so se aprirlo o no, perché è fatto da un toro, e può darsi che all'impresa, appena l'accendo, fuori non esce una fontana, ma esce un toro. Infatti c'ho troppa paura, ragazzi. Queste, appena sono entrato nel negozio e le ho viste, sono impazzito, le ho viste su un altro video su YouTube, la fontana Nettuno Multicolor, che fa tutti gli scoppietti, credetemi, è super mega spettacolare. Questo invece è il pezzo forte di questo video, le fontane tulipano. Cioè, ma guardate quanto sono grandi, pure rispetto alla mia mano. E poi volevo fare un paragone, le fontane sole contro queste fontane. E' come se io prendo e faccio un paragone con uno di bambino di tre anni, questo c'è 50 anni, questo c'è solo 5 anni, bellissimi. Le tulipano, le fontane tulipano, e sono in tante colorazioni, e ho preso queste. Ok, ragazzi, volevo che questo momento non esistesse. Il video sta finendo, infatti questo è inutile i botti visti dall'alto. Se non avete visto il mio carico, che ancora doveva essere completato, andatelo a vedere. Poi iscrivetevi al canale, attivate la campanella, e soprattutto le cose più importanti, lasciate un super mega milioni di milioni di like. E da Lorenzo, ciao, ci vediamo al prossimo video. Ciao, ciao.